La città di Kardun è il migliore remedi per la malattia di sangue, in particolare al contenuto di acido clorogeno, che è buono come agente del detox del nostro organismo. Qui in Sicilia, questa erba è usata come tè di erba con le letture seccate e, insieme, altre erbe, come liquiris, per esempio, che conferono un sentito dolore e questo è buono anche per i problemi digestivi. Rapporti storici, come back to ancient Greeks, describendo l'altelis varietà usata in ancient Greeks' cooking. E potete immaginare che globo artichoke, commonly used in cooking, ha un genetico in heritaggio di questo tipo di varietà. E Sicilia è un'unica di un'attività di artichoke in tutto il mediterraneo basso. inspectional intervento cominciato per fare parametri lungo incalcato con il uso di altri modos Angeb этом metab��i. Questa è stata un' Questo è un stude molto fascinante. Ci sono così pochi studi con un tipo forte design nel campo di nutraceutica. Al fine del studi abbiamo già trovato dei dati preliminari. Altilix, Pura-Altilix, potrebbe migliorare le mesurazioni antrometri, come il peso del corpo, il mass index del corpo, la circunferenza del corpo. Abbiamo anche trovato dei benefici sui parametri glucosi e lipidi, e anche sui indeczio fatale, che è una mesurazione indiretta dell'epatico steatosis. Altilix è un extracto di una varietà particolare di sciocci. I più importanti ingredienti in questi extracti sono apigenin, luteolin, e flavonoidi, che hanno dato a questi extracti molto importanti e interessanti beneficiari.